Credo, sì, io credo che un giorno, il tuo giorno, o mio Dio, avanzerò verso di te con i miei passi titubanti, con tutte le mie lacrime nel palmo della mano. E questo cuore meraviglioso che tu ci hai donato, questo cuore troppo grande per noi perché è fatto per te. Verrò verso di te e griderò a piena voce tutta la verità della vita sulla terra. Ti griderò il mio grido che viene dal profondo dei secoli. Padre, ho tentato di essere un uomo e sono tuo figlio. Amen.